Com'è via? Alzi? Renta presenti più uno. E smettetela di guardarmi così. Mi dà le fastidio, mi dà le erbi. Io lo so cosa volete dirmi con quegli occhi. Mancano tre minuti. Ia vol. Avete sentito il maggiore? E' a lui che dovete guardare, non a me. Lui ha la carta bianca. Io la carta bianca non l'ho avuto neanche per scrivere a casa. Mancano due minuti e trenta secondi. Uff, lo so, lo so che lassù ci sono le donne, i bambini, i vecchi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io sono un soldato! Non sono una dama di carità! Mi si ordina di sparare e io sparo. Tenetevi pronti! Maggiora Crooker, l'ordine ai miei soldati glielo do io. E allora datteli! Quando vi pare! E ricordatevi che sono un vostro superiore! Io sono venuto con pieni poteri! Mancano due minuti. Quando mancano? Un minuto e cinquantacinque secondi! E chi se ne frega! Con l'eserla! Sì! Io non sparo contro un paese inerme! Lo faccio prima evacuare e poi farò cantare tutti i mortai che le vogliono sentire! Non dite crescideria! La stazione dipende sulla sorprezza! Ah sì? Ma io non ne faccio di queste belle sorprese! Io sono un soldato! Non sono un assassino! Che conta la vita di cento, due, cento persone davanti ai vittori di Grand Reich? Sono come in mosche! E io non ammazzo nemmeno le mosche! E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò! Né ora, né mai! Patate, coloniello! Io ho carta bianca! E ci si pulisca il culo! E ci si pulisca il culo!